Il seminario estivo di Simbola sarà veramente un'occasione molto importante per poter discutere di rinnovabili, di economia rinnovabile, di economia sostenibile. C'è bisogno davvero in questo mondo così complicato di dare una prospettiva di sviluppo e credo che nulla come le rinnovabili, tema che sarà trattato a Treia, appunto al seminario estivo di Simbola, possano dare questo sbocco per tante generazioni future. Grazie